Le licenze Creative Commons sono un nuovo tipo di licenze create all'inizio degli anni 2000 da un ente no profit che sta negli Stati Uniti che appunto si chiama Creative Commons e mirano a creare un regime di diritto d'autore più elastico e più adatto a quello che è il mondo di Internet di oggi. Sostanzialmente il motto che sta dietro le licenze Creative Commons è Some Rights Reserved, cioè alcuni diritti riservati, che fa un po' il verso a tutti i diritti riservati a cui siamo abituati nel modello copyright tradizionale. In sostanza sono delle licenze che applicate all'opera comunicano che l'autore sta rinunciando ad alcuni diritti di quelli previsti dallo standard del diritto d'autore e quindi ecco perché alcuni diritti riservati. In questo modo gli utilizzatori delle opere leggono la licenza e capiscono che possono fare alcune cose liberamente senza dover chiedere il permesso all'autore.